L'Abruzzo intero sarà così più competitivo con nuove straordinarie opportunità di crescita. L'ho detto il Presidente della Regione Marco Marsiglio intervenendo all'Aquila nella Sala del Consiglio dell'Università Palazzo Camponeschi in occasione dell'evento di presentazione del Memorandum con lo scopo di informare industrie e enti interessati sulle iniziative che verranno intraprese nei prossimi mesi. Si punta a promuovere e supportare lo sviluppo di servizi basati sull'utilizzo di asset satellitari quali GNSS, osservazione della Terra e comunicazioni satellitari integrate con le reti 5G. Questa scommessa si dimostra vincente, questa volontà, questa attività che da qualche anno appunto la città dell'Aquila insieme all'Università, insieme alla Regione stanno conducendo per caratterizzarsi come città dell'innovazione sta portando attenzione del mondo scientifico, attenzione da parte della ricerca e prestigiose istituzioni internazionali in questo caso come l'Agenzia Spaziale hanno raccolto e notato questa attenzione e questa sensibilità e quindi vengono ad investire a fare dei progetti per la nostra Regione che può quindi diventare una Regione all'avanguardia nella ricerca, nell'innovazione è una Regione dove si sperimentano le tecnologie del futuro e dove si prepara per il futuro per i nostri cittadini, città più intelligenti, più connesse, aziende che possono comunicare più velocemente e offrire maggiori servizi sia in termini di quantità che di qualità. L'Agenzia Spaziale Europea tramite il suo programma Business Application avrà il ruolo di supportare le industrie e le istituzioni interessate fornendo fondi e supporto tecnico per sostenere lo sviluppo di servizi innovativi e sostenibili nella città dell'Aquila e nella Regione Abruzzo.